e tu biondina capricciosa garibaldina trullalà te sei la stella di noi solda bravo stasera una ricetta importante prendi penna e foglio e via dicendo pane e salame pane e salame che sembra difficile sembra sembra facile ma è difficile mi ero confonduto confonduto con la fonduta sii guarda che mattina che li fai guarda che sono simpatico prendi il pane ma non sti paninezzi lì delle balle lì che trovi bel pane una bella micca bella micca grosso capito che bel pane seconda roba prendi un coltello un bel coltello non sti coltellini lì delle balle lì quel coltello lungo così e sac gli dai una bella botta e via dicendo per dopo prendi salame ma non quei salami lì delle balle che non sono né carne né pesce lì queste balle lì bel salamone grosso hai già visto salame grosso a te non gli vado ma stiamo parlando del salame come quello che c'ho io no capito ti io cerca un po' di allora prendi il tuo salame e tagli e lo spiace spiace un po' perchè lo vedi di bello grosso devi tagliarlo e cominci a tagliarlo con delle fette con delle fette ma non sti fette di pitti grosse almeno un dito ma non sti ditti che grossi così bel dito grosso come una mano un dito né capito togli giù e giù fettacce e giù fettacce fichi nel panino e poi e beh vandi giù in bocca e giù barbara e via dicendo poi magari ti prendi un bel caffè lo vuoi caffè vieni la mia cara a prendere il caffè e via non vieni cosa c'è sei timida andiamo va che 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 c'ho da mungere oh guarda che ora che è va oh porca lo va va che 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 venite a prendere il mio carro al caffè ce lo dite qua a rete quarto va doma e qui in comando io e questa cara mia ciao